E' in arrivo, il treno regionale XYZ, al binario brutto. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni, tranne, quella che ti serve. Attenzione, treno depresso al binario 1, avvicinarsi e consolarlo. Macchina gialla al binario 2. Coglione, l'hai vista. Ora arriva il capo stazione e ti picchia. Il treno Frecciargento, proveniente da Trento, e diretto a Napoli Centrale, è stato rubato. Ue guagliò bello sto treno. Si informano i viaggiatori che questo treno non farà ulteriori fermate. Morirete qui, bastardi. Il treno Italo, fermo al binario 3, non serve ad un cazzo e fa schifo. Meglio Trenitalia. È inutile tentare di usare il Wi-Fi del Frecciarossa. Il macchinista sta scaricando la crack dell'aggiornamento di questa voce di merda. Annuncio ritardo. Il treno Frecciabianca arriverà con un ritardo imprecisato, perché si è perso e una ganga di Frecciarossa mille lo sta bullizzando. Ci scusiamo per il disagio. L'autobus sostitutivo, diretto in una località a caso, è in partenza dal piazzale esterno della stazione, ma quella dopo di questa. Ci scusiamo per il disagio, ma non troppo. Attenzione, treno Frecciarossa è incazzato in transito proprio dietro di te, è troppo tardi per allontanarsi dalla fottuta linea gialla. Rip. Rip.